Bentornati in diretta sul Metvox Rock Show, questo è il nostro spazio, lo spazio dedicato agli amanti della musica metal e dei racconti horror. Oggi leggiamo Formaldeide, che ho scritto per l'occasione. La gente passa tutta la sua vita a rifuggire il dolore, io non l'ho mai conosciuto, i miei nervi sono nati morti, una rara condizione il cui nome scientifico mi darebbe il mal di testa se solo fossi in grado di provarlo, il mal di testa. Quando non senti dolore non provi paura, non provi nulla in realtà, quindi il vero nemico diventa la noia e questo è un cazzo di problema. Intendiamoci, la fantasia non mi manca, ma sto iniziando a finire dita, barattoli, Formaldeide e pazienza. Questo era Formaldeide e come sempre vi invitiamo a mandarci i vostri racconti, sempre del genere horror, mandateci anche una canzone che vorreste sentire subito dopo la lettura del vostro racconto in diretta, rispettate solo il parametro dei 2000 caratteri spazi inclusi. L'indirizzo per mandare le vostre creazioni è radioracconto-libero.it. E adesso andiamo a sentirci il sincopate dei Six Counted Murder.